Ciao a tutti ragazzi bentornati al corso di trading sull'IPICA della Trading Academy oggi vi spiegherò come bisogna impostare una sessione di trading quando stiamo facendo scalping o swing trading sui cavalli in generale quali sono le impostazioni migliori da utilizzare non tanto per quanto riguarda il software ma per quanto riguarda l'operatività come noi vogliamo vedere i grafici, quali grafici vogliamo utilizzare naturalmente vi farò vedere Betangel e vi insegnerò anche a capire quando qualcosa sta cambiando all'interno dei mercati che è molto molto importante, come vedete sono ritornate le corse principali, le corse UK, United Kingdom e quindi vi farò vedere esattamente come io preparo la mia attività da scalper o da swing trader o comunque da trader sulle corse dei cavalli su questa gara impostando i grafici e cercando di farvi capire che cosa guardo esattamente quando mi aspetto un cambiamento all'interno delle quote questo sarà un video leggermente avanzato anche se il corso è iniziato da poco ma vi voglio far vedere esattamente tutte le cose che serve osservare quando noi vogliamo fare trading su questa disciplina che è una disciplina molto molto avanzata quindi ci vediamo tra poco ragazzi con le impostazioni operative per le corse dei cavalli eccoci qua ragazzi questa gara che inizia tra poco, tra appena 9 minuti come potete vedere ho già scelto i 3 cavalli che reputo essere i cavalli dove la liquidità arriverà naturalmente bisogna fare le ricerche, bisogna fare le ricerche e cercare di capire naturalmente il favorito solitamente è il cavallo con la liquidità maggiore e quindi ovviamente il favorito è qua poi abbiamo il secondo favorito e poi abbiamo un altro cavallo che è molto forte ho fatto le mie analisi, le mie ricerche, sono convinto che attrarrà un po' di liquidità e infatti come potete vedere c'è della short term liquidity appunto i traders stanno facendo trading anche se naturalmente le cifre sono minori, inferiori rispetto ai cavalli principali i cavalli più quotati, c'è attività e quindi questo è un cavallo che ha dell'interesse intorno agli scommettitori e ai traders la prima cosa che faccio è guardare assolutamente il range della liquidità questo è un cavallo che sta salendo e quindi molto facilmente è un cavallo che scenderà e come potete vedere sta scendendo ma in questo periodo è molto facile che la quota vada su e poi vada giù in questo momento non dovete assolutamente entrare e aprire posizioni dovete semplicemente guardare i mercati, cercare di capire come funzionano poi i mercati di cavalli cercate di osservare i mercati senza entrare, non dovete per forza entrare, anzi non dovete assolutamente entrare all'inizio guardate, osservate quando il cavallo va al top range della liquidità molto facilmente è un cavallo che scenderà e il cavallo secondo favorito che è al bottom range o comunque abbastanza basso rispetto ai volumi tra i dati, molto facilmente salirà una delle primissime cose che faccio, me l'avete fatto, l'avete visto diciamo, l'avete visto molte volte inverto lei e Beck, quindi inverto Beck e lei come potete vedere il mio preset essenzialmente è avere tutti i cavalli nell'ordine dei favoriti ma io solitamente tengo sempre i tre cavalli, di solito due cavalli, il favorito, il secondo favorito e poi un terzo cavallo che è il cavallo che reputo avere della buona liquidità e quindi mi aspetto qualche pressione arrivare dal terzo favorito adesso ho messo il mio cavallo, quello che ho scelto per avere diciamo della liquidità e anche un quarto cavallo, come potete vedere qua c'è una ladder più approfondita e io su Bet Angel Professional Enhanced Ladder, vedete lo si può attivare da questo iconcino a forma di tuono come potete vedere questo cavallo è all'estremo top range, in questo momento posso pensare di entrare appena questa liquidità diminuisce e lo farà a breve, immagino lo farà a breve in questo momento entro e esco subito per un profitto molto rapido vedete che questa liquidità adesso si abbasserà, scenderà di un tick perché? Perché siamo al top range della liquidità questo è qualcosa che voi dovete innanzitutto fare molto molto velocemente e dovete farlo con stake bassissime da 2 pound se lo volete fare è obbligatorio ragazzi, obbligatorio agire solo quando siamo al top range della liquidità su un cavallo favorito o su un cavallo comunque molto quotato con tanta liquidità perché questo è un meccanismo naturale di base dei mercati voi vorrete trovare quei cavalli che sono al top range della liquidità e che hanno segnali di discesa e il segnale di discesa è molto semplice e il fatto che altri cavalli sono abbastanza bassi e facilmente saliranno perché questo succede? Perché mancano 5 minuti all'inizio della gara mancano 5 minuti all'inizio della gara e quando mancano 5 minuti tutti gli scommettitori arrivano su questa gara qua nel Regno Unito le corse hanno una timetable precisa quando su una track, quindi quando su una gara, una corsa per esempio New Market o New Castle finisce una gara c'è sempre la gara in un altro mercato che inizia e quindi gli scommettitori vanno uno dietro l'altro uno dietro l'altro, ci sono molti metodi possiamo dire di scommettitori che appunto vanno da una gara all'altra e quindi adesso stanno arrivando tutti adesso stanno arrivando tutti e tutti punteranno questo cavallo perché è il cavallo stra favorito e quindi in questo momento è molto semplice se il cavallo è al top range della liquidità vedere una discesa sempre, mi raccomando all'inizio sempre stake da 2 pound è sempre assolutamente un solo tick di profitto avete visto che ho chiuso un profitto in pochissimo veramente in pochissimo ma quello che volevo farvi vedere ragazzi quello che volevo farvi vedere è come bisogna utilizzare i grafici quello che faccio io naturalmente adesso vedete che questo cavallo nuovamente sta salendo bisogna fare attenzione a questo punto incrementale difficilmente supererà il punto incrementale ma se dovesse arrivare qua se dovesse esserci volume tra i dati a questa quota io posso pensare nuovamente di entrare e quello che faccio vedete che la liquidità sta scendendo nuovamente chiederò un prezzo a 2,94 vedete questa differenza che c'è ed è questione davvero di pochissimi secondi pochissimi secondi adesso io verrò chiuso con un altro profitto vedete ho chiuso un altro profitto ma perché? perché era al top range ed entro solo ed esclusivamente quando sono al top range vedete questa liquidità che diminuisce entro e di nuovo poi subito esco quando sono a una tick più bassa adesso andrà su e riscenderà vedete che c'era tanta liquidità da questa parte ma adesso verrà spinta in giù perché siamo al top range è molto importante gli scalpers quelli che fanno scalping sulle corse dei cavalli adesso di nuovo verrò abbinato ho fatto una sterline 0,3 è molto importante capire che la short è una liquidità in questo momento qua ma siamo al top range siamo al top range e non appena questa liquidità scende vedete che la quota scende giù sembra molto difficile ma questo è lo scalping di base sui cavalli di base sui cavalli un cavallo al top range della liquidità con la liquidità appunto che spinge in giù la liquidità sul lato lei questa è una quota che scende perché tutti gli scommettitori stanno arrivando ma adesso che abbiamo capito un po' più o meno abbiamo capito com'è il meccanismo di scalping di base arriveranno tanti esempi live ragazzi arriveranno tantissime sessioni live di trading quindi non preoccupatevi di cercare di capire come funzionano i mercati di cavalli in questo momento quello che volevo farvi vedere è che dovete assolutamente utilizzare dei grafici di short term liquidity comunque possiamo chiamarli dei grafici recenti perché noi vogliamo assolutamente cercare di capire il trend di mercato e il trend dei cavalli quindi io quello che faccio naturalmente è prendo i grafici dei cavalli che reputo cavalli interessanti come potete vedere in questo momento questa quota sta salendo e questa quota scenderà molto probabilmente questo cavallo scenderà scenderà proprio tra poco a ridosso della gara il punto incrementale è stato abbattuto questo è un segnale che potrebbe salire di tanto la quota fate sempre molta attenzione quando i punti incrementali vengono abbattuti ma sono interessato a questo cavallo dire il vero sono interessato a questo cavallo perché ha quote molto alte ed è un cavallo forte un cavallo che ha possibilità naturalmente di giocarsela questa gara di appunto poter competere bene e come potete vedere guardate lo sting che ha avuto guardate lo sting che ha avuto lo sapevo che questo era un cavallo interessante un cavallo interessante e quindi lo sto monitorando molto facilmente vedete che questo cavallo sta salendo questo cavallo sta salendo questo possibilmente può scendere adesso sono entrate 8400 sterline quindi perché io vi invito a utilizzare questo tipo di grafici naturalmente potete anche salvarvelo nei preset io ho già tutto salvato volendo con un click avete già subito questa impostazione perché adesso vedete che questo punto incrementale è stato abbattuto e questa è una quota che salirà ma a un certo punto scenderà e quindi il trader esperto aspetta vede quando questa liquidità finisce di salire inizia a scendere lo so è questione di mille secondi però si fa così adesso manca poco e non consiglio più a nessuno di entrare in una gara di questo tipo però vedete ragazzi questo cavallo sta salendo questo cavallo sta salendo e questo cavallo sta scendendo perché? perché i cavalli lavorano sempre i mercati di cavalli lavorano sempre in tandem significa che quando un cavallo sta salendo la pressione di quella liquidità arriva anche sugli altri cavalli lo avete visto nel cross matching ragazzi per esempio quando io punto un risultato automaticamente viene creato un ordine di banca su altri mercati nel mondo dei cavalli è la stessa cosa nel mondo dei cavalli è la stessa cosa perché quando io punto per un cavallo e dentro con migliaia e migliaia di sterline sto essenzialmente bancando anche su tutti gli altri quindi si creano ordini di bancata che creano naturalmente delle pressioni all'interno dei mercati soprattutto gli ordini di bancata vedete adesso il pensiero del mercato il pensiero del mercato è stato di bancare questo cavallo ma questo cavallo è salito perché ha oltrepassato il punto incrementale ma quello che volevo farvi vedere oggi ragazzi innanzitutto è che noi entriamo se siamo scalpers che stanno iniziando a lavorare sui cavalli solo quando il cavallo favorito è al top range della liquidità e quando vediamo la liquidità scendere sul lato banca questo è essenziale non entriamo non facciamo swing trading non facciamo nient'altro questa è la cosa essenziale se state iniziando guardate i mercati non tutti i cavalli arriveranno al top range della liquidità e scenderanno adesso questo cavallo scenderà questo cavallo scenderà ve lo assicuro e lo si può benissimo vedere avete visto che questa questa quota è da 3-1 è scesa a 3-5 adesso scenderà anche a 3 probabilmente ma non voglio entrare perché non voglio entrare perché non sto guardando la gara adesso vedete che dovrebbe in teoria dovevano già essere partiti non sono sto vedendo se i cavalli stanno per partire oppure no molto spesso io faccio trading vedete che adesso questa quota scenderà ancora faccio trading adesso quando vedo che i cavalli non stanno per partire ma tutti appunto si aspettano già la gara in corso e quindi molto spesso questa quota di nuovo scende leggermente ma vedete un po' il trend che ha avuto questo cavallo vedete un po' il trend va su va giù va su va giù è molto importante riuscire a vedere quando il cavallo arriva al top range della liquidità perché vedete ogni volta che il cavallo è arrivato al top range della liquidità poi è sceso poi è salito poi è sceso top range della liquidità e quindi è molto importante ragazzi innanzitutto entrare con una sola tick di profitto per puntare alla singola tick non scordatevi il profitto nel mondo delle corse e dei cavalli fino a che non imparate a memoria tutti i meccanismi dei mercati dimenticatevi profitto swing trading scommesse tutte queste cose dimenticatevele dimenticatevele perché i mercati di cavalli e delle corse sono mercati estremamente avanzati estremamente complicati se non sapete come funzionano i mercati non avrete mai successo in questo mondo e quindi il mio consiglio è avere naturalmente questi piccoli grafici aperti sotto al cavallo perché? perché quando un cavallo sale l'altro cavallo scende vedete quanto è sceso questo cavallo me lo aspettavo che ci fosse questo drop perché? perché questo cavallo è salito questo cavallo è stato bancato da tutti e questo cavallo è sceso lavorano sempre sempre in tandem adesso la gara è in play ho chiuso il mio profitto di una sterlina ma era un esempio vi ho fatto vedere che sono entrato quando il cavallo era al top range della liquidità quando l'altro cavallo era abbastanza basso e la liquidità sul lato banca stava scendendo è qualcosa che bisogna allenare anche gli occhi bisogna allenare un po' il cervello perché se siete abituati al solito scalping per esempio in play sul calcio che va lentissimo o sul tennis che va anche quello abbastanza lento sicuramente non siete abituati a prendere delle decisioni così in fretta vedere la liquidità che scende e subito cliccare perché è questione di millisecondi neanche secondi neanche secondi millisecondi adesso pare che questo cavallo sia molto performante e quindi il drop è stato giustificato però avete visto che avevo anche trovato un grosso grosso drop sul terzo cavallo ho fatto le mie ricerche sapevo che questo era un cavallo interessante e sapevo che gli scommettitori avrebbero scommesso perché la quota era interessante a 15 e di fatto è scesa qua avrei fatto un ottimo profitto un ottimo profitto da 15 a 11 con una stake importante avrei chiudo un ottimo profitto ma pare che il cavallo favorito stia per vincere la gara vi ricordo che per quelli che hanno betangel professional possono utilizzare l'inplay trader che vi da un'indicazione sulla liquidità non tanto queste non sono le posizioni dei cavalli non sono l'ordine dei cavalli ma è appunto la disparità che c'è tra le quote adesso il cavallo naturalmente favorito pare che stia per vincere ma molto spesso in questo preciso momento arriva un altro cavallo che si vince la gara quindi non è assolutamente ancora detto che questo sia il cavallo che vince vedete che ce n'è un altro che sta facendo un testa testa head to head i mercati non sono ancora così sicuri della vittoria adesso probabilmente si adesso probabilmente vincerà quasi sicuramente avrà vinto adesso il cavallo favorito però non non fatevi ingannare quando qua siamo a 1.50 1.60 non è mai detto guardate guardate cosa è successo guardate cosa è successo che cosa vi ho appena detto cavallo che sembrava aver vinto questo è una one mile to four lengths quindi era una gara abbastanza lunga avete visto non l'ha più vinta il favorito che ha tenuto fino alla fine adesso non si è capito che cosa sia successo ma molto probabilmente non ha vinto il favorito non ha vinto il favorito ha vinto un altro cavallo e quindi fate molta attenzione nei mercati delle corse dei cavalli ricordatevi di tenere il questa sorta di piccolo grafico potete anche avere il grafico storico se avete più monitor vi consiglio anche questo se avete più monitor io solitamente questo tipo di grafico qua ce l'ho su un monitor che sta alla mia sinistra e quindi tutti i grafici storici li tengo alla sinistra del mio schermo principale che sia uno schermo piccolo che sia uno schermo esterno ci sono molti schermi usb che si collegano semplicemente al vostro computer con una presa usb e fanno da schermo ulteriore da schermo aggiuntivo solitamente questi grafici qua io li sposto sempre sullo schermo alla mia sinistra tengo questi grafici qua sotto alla ledder e io i miei occhi sono fissi sulla liquidità lato punta e lato banca dovrete naturalmente ragazzi fare tantissima pratica ma quello che io vi consiglio di fare ancora prima della pratica è guardate tanti mercati guardate tanti mercati senza entrare senza fare niente fate le vostre ricerche sui siti di analisi quelli iscritti alla mentorship plus hanno anche i miei segnali siamo già a 4 segnali di file dove ho dato ottime indicazioni sui cavalli che poi hanno appunto modificato l'outlook del mercato ma in ogni caso se state iniziando stake da 2-2 pound è assolutamente top range lavorare solo al top range vedere quando la liquidità qua sta scendendo vedete quanti soldi sono entrati sono entrati quasi un milione di sterline un milione di sterline a gara e abbiamo tutto il giorno gare in diverse race tracks courses quindi assolutamente fate molta attenzione quando entrate magari utilizzate addirittura il software in modalità pratica e vi ricordo ancora i grafici vi ricordo i grafici tenete sempre i grafici vedete che quando voi salvate le impostazioni automaticamente i grafici scendono qua salvatevi anche magari la vostra impostazione così ve la ritrovate subito e se avete più schermi mi raccomando i grafici storici metteteli separati metteteli separati così sapete e allenate il cervello che saprà sempre che sulla sinistra vedrà lo storico e sullo schermo principale vedrà la short term liquidity essenzialmente il cambiamento rapido di quote e volumi noi ci rivediamo naturalmente la prossima settimana con tanti nuovi esempi live su come trovare le occasioni perché i mercati in realtà hanno funzionamenti diversi il mercato più semplice è un mercato con un chiaro favorito comunque un favorito abbastanza chiaro quota di 3 già non è più così tanto favorito ma in ogni caso avete visto che diverse volte questo cavallo adesso non so se non c'è più il grafico non so se riesco a trovarlo sì lo riesco a trovare prima naturalmente della gara avete visto che diverse volte è andato su è andato giù è andato su è andato giù e questi tipi di movimenti si riescono a trovare molto spesso e per chi fa scalping è molto facile una volta che si imparano tutti i meccanismi trovare quando una tic o due tic va giù un cavallo quindi spero che sia stato abbastanza semplice ragazzi questa lezione vi ricordo sempre di avere tutti i grafici davanti agli occhi perché sono essenziali nel mondo delle corse dei cavalli se volete avere una scala ingrandita potete benissimo utilizzare questa funzione qua enhanced ladder noi ci vediamo ragazzi venerdì prossimo con una nuova lezione sul mondo delle corse dei cavalli e dello scalping di base sull'ippica grazie a tutti